Un passaggio importante che mi interessava fare, volevo mettere un po' l'evidenza su quelle che sono le attività che l'ambiente ha sviluppato recentemente, soprattutto nel campo della sostenibilità, che sono un po' il nostro fiore all'occhiale dell'ultimo periodo, l'attività ultima che abbiamo avviato. La nostra storia nasce da molto lontano, siamo nati nell'84, in una zona nemmeno così fertile dal punto di vista delle richieste ambientali, e quindi è stato duro iniziare, è un'attività dove andavamo a offrire dei servizi che la gente capiva a conto male, quindi oggi parlare di sostenibilità rispetto a quella che è un po' la nostra origine mi fa anche un enorme piacere, perché vuol dire che quello che è stato un po' il messaggio che noi in qualche modo abbiamo trasmesso, ci abbiamo sempre chieduto su questi temi, è un messaggio che poi alla fine è passato e oggi quello che una volta facevamo fatica solo a far capire alle persone quello che dovevano fare, oggi è diventato invece un qualcosa che ci viene richiesto dal mercato, che c'è sempre maggiore attenzione, che in qualche caso è diventato anche un elemento molto importante sull'aspetto pubblicitario, ma nella nostra realtà invece è un credo aziendale che abbiamo sempre avuto fin dalle origini. Quindi noi siamo nati con questo spirito, battaglia iniziale per imporci su temi dell'ambiente e della sicurezza, dell'ambiente soprattutto, la sicurezza è venuta un pochino dopo come temi, e siamo sempre stati presenti sul territorio, allargandoci piano piano su tutto il territorio nazionale, con attività anche all'estero, partendo da un'area di provincia come può essere Massa Carrara, quindi una zona anche un po' decentrata rispetto a quello che è l'area toscana, siamo riusciti oggi ad essere una realtà importante in tutta l'Italia. Per il secondo anno abbiamo deciso di fare il bilancio di sostenibilità, l'avevamo già fatto l'anno scorso, quest'anno lo riproponiamo in maniera anche un po' più estesa, quindi andiamo avanti su quello che è il percorso, perché crediamo che attraverso anche un'applicazione pratica, un'applicazione diretta delle nostre attività all'interno nostro, sia un buon elemento di partenza per tarare il sistema, per capire cosa offrire poi anche ai clienti, come offrirlo e quindi imparare anche a gestire le attività interne. Abbiamo quest'anno deciso di allargare quella che è la competenza, l'attività svolta per il servizio interno di bilancio di sostenibilità con quello che è il CDP, quindi quello che è poi il cambiamento climatico, cioè il rendere pubblico, abbiamo esteso il questionario CDP al nostro bilancio, di modo che questa volontà che noi abbiamo di internalizzare questo servizio diventi un qualcosa che vogliamo anche pubblicizzare all'esterno, quindi non è qualcosa che facciamo per noi stessi, è partito come un qualcosa che volevamo tarare su di noi, ma che è offerto alla disponibilità, alla lettura anche dei partner, degli amici, dei clienti, dei consulenti, di altre figure. Quindi allargare un po' quella che è la nostra visione, quella che è la possibilità di discutere questi temi, lo abbiamo ritenuto strategico e quindi abbiamo inserito anche questo discorso del CDP a integrazione di quello che era il bilancio di sostenibilità fatto nel 2020. Quindi oggi ci diamo anche degli obiettivi che sono quelli che porteremo avanti nel prossimo futuro, abbiamo delle altre idee che vanno un po' in questa direzione, cercheremo di sviluppare anche altri temi che vadano nella direzione comunque del riconoscimento, anche delle figure delle persone, del tempo libero delle persone, del beneficio aziendale delle persone. Abbiamo fatto molto small work in questo periodo, abbiamo visto che è stato molto apprezzato, siamo riusciti anche a farlo diventare un elemento di lavoro che fino a un paio di anni fa, soprattutto per me, per i più anziani ci poteva sembrare un elemento più difficile e l'elemento nel quale il nostro lavoro nel contatto umano è sempre stato fondamentale. Per oggi abbiamo integrato quella che è comunque una presenza umana che garantiamo quindi una visione di presenza a molte attività che riusciamo a gestire con videoconferenze anche con i nostri clienti e quindi anche i nostri clienti hanno un po' ricepito questo tipo di messaggio e mi sembra che ci sia soddisfazione sia da parte del personale nostro che riesce a gestire un po' meglio il tempo di lavoro riducendo gli spostamenti sia in termini d'orario e di tempo risparmiato sia in termini di emissioni di CO2 che è anche questo uno degli elementi che naturalmente va a premiare la riduzione di spostamenti. E anche i nostri clienti che hanno apprezzato questo tipo di scambio ovviamente non disdegnando all'occorrenza e periodicamente anche poi quello che è il rapporto di persona che rimane un po' nell'ambito della consulenza un elemento forte diciamo del rapporto tra le figure e tra le persone. Quindi oggi voglio ringraziare il settore e il gruppo animato anche da giovani ragazze e ragazzi di ottima preparazione tecnica e di grandi idee professionali che sono pronte a sviluppare questo settore ulteriormente rispetto a quello che è oggi noi siamo soddisfatti di quello che il settore sta dando e del ritorno che in questo momento ci sta dando il settore che ci sono. Io con questo ringrazio tutti quelli che hanno contribuito allo sviluppo di questi temi e naturalmente ci vedremo per commentare il nostro viaggio di sostenibilità a livello pubblico.